Oggi l'Italia ha bisogno di un grande piano infrastrutturale per autostrade, rete ferroviaria e per i porti. È chiaro che la catena logistica italiana dentro il mar Mediterraneo, che è il mare commercialmente più interessante al mondo, ha bisogno di un rinnovamento. Lo vediamo anche da quello che sta succedendo sulla nostra rete autostradale dopo la tragedia del Ponte Morandi, purtroppo nulla è stato fatto. Bisogna rivedere le concessioni autostradali per fare in modo che vengano garantite le manutenzioni ed equipedaggi, ma soprattutto bisogna iniziare a pensare a un governo che sappia mettere insieme e intersecare la modalità ferroviaria, quella autostradale e quella marittima. L'Italia potrebbe essere al centro di un rilancio. Oggi i porti italiani versano all'erario 10 miliardi di euro di tasse, potrebbero versarne il doppio perché quello che arriva nel nostro paese serve tutto il mercato europeo e quindi guadagnare quote di mercato, guadagnare soldi da investire sul nostro paese dando un servizio alle aziende, ai produttori, agli esportatori in modo di abbassare i costi del trasporto che sull'agroalimentare hanno una particolare incidenza. Per noi è fondamentale iniziare a ragionare come facevano i nostri avi quando a costruire le linee ferroviarie c'era un progettista, c'era un unico appalto, c'era un unico direttore dei lavori. Oggi purtroppo le opere vengono spezzettate, c'è troppa trafila burocratica, pensate che su un'opera che ci si mette 10 anni a fare, 7 anni sono di scartoffi e solo 3 di lavori. Rilanciare le opere vuol dire non solo garantire più sicurezza ai cittadini sulle nostre autostrade, vuole anche dire dare prospettive alle aziende e creare posti di lavoro perché il rilancio, il boom economico del dopoguerra è stato fatto proprio sul settore di Ile.